Poi, sempre al mercato di Brescia, scusate ma sto andando un po' così random, ho preso questa borsettina qua per soli 3 euro che è fatta a farfalla, praticamente ha la forma di farfalla, mi richiama leggermente con i braccialini, ma proprio nell'anticamera leggera e mi piaceva perché la bolla è trovata un particolare per fare 3 euro, per provare a prenderla e fatta così a farfalla e ho pagato solo 3 euro al mercato di Brescia, e poi sempre da terra nuova ho preso altre due cosine e sono questi jeans, tutti i jeans sempliciti con skinni molto stretti, slavati di color ruggine rosso, sono molto stretti, un pochino vita normale, quasi vita alta, mi piace una vita alta, mi piace solo tantissimo perché la stampa richiama un po' gli anni 90 e gli anni 90 diciamo che stanno tornando abbastanza e quest'anno praticamente si vedono molte cose che chiamano gli anni 90 e non lo so che se mi piaceva perché avevano questa slavatura rossa e li ho pagati su tutti, 7 euro e 99 venivano 35 e 99, e poi tanto per resta in tema basket ho preso questa magliettina bianca con le scritte e i numerini azzurri contornati di rosso e questa qui l'ho pagata 30,99 al posto che 12,99 e pochissimo anche questa. Poi per finire sono stata da Tali oggi pomeriggio che è lunedì e sono in ferie, ho preso andando velocemente questi pantaloni a vita alta, ho datato per esempio un paio di pantaloni a vita alta, quando ho visto questi mi sono innamorata e sono dei jeans a vita alta appunto color beige, c'erano anche del verde militare e questi qua li ho pagati una stupirata, vi faccio vedere, sono stati in fondo, vita alta, urbanissimi, semplicissimi, 8 euro e 95. ascoltati, 50% direi ottimi, poi ho preso questo vestitino che vabbè ha queste foglioline così molto simpatiche e questo qua era 9,95 euro, l'ho pagato 6 euro qualcosa e mi piaceva diciamo che era l'abbinamento dei colori e va molto di moda questa stampa da Tali Whale. Ho preso anche un top, mi piace molto il fatto che abbia abbinato il rosso con il blu ed è un vestito proprio semplicissimo per quelli che vanno aderenti a canottiera, molto stretti, che non mi piace particolarmente questo modello di vestito però mi piaceva la fantasia. Poi ho preso questa gondellina, solite gondelline, lo get, certine, con questa stampa a peperoncini che mi piacevano tantissimo e questa qua l'ho pagata 63,45 euro, è come quella con le macchine, ci sono diverse stampe di queste gondelline. Poi ho preso le semplicissime maglie basic, queste qua le pagate 1,2 euro e 5 centesimi, semplicissima pianta che mi serviva, a B e un bel nero, anche questa costava di più, costava di 2,95, chissà perché. Nero, ho preso l'XS, sono queste magliettine semplici che vanno sempre bene, che non ho mai quando mi servono. E niente, questo è tutto per quanto riguarda lo shopping non accessori, quindi abbigliamento, adesso vi faccio il test degli accessori.